Amici di Piazzale della Vittoria, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, domenica agrodolce per le due principali squadre sportive forlivesi, ovvero Forlicalcio e Unieuro Pallacanestro Forlì. Partiamo però dalle note liete. Fat Furlè! Fat Furlè! Forlì batte Padova 1-0, ricomincia il campionato dopo la sosta come meglio non potrebbe, battendo una squadra che punta dichiaratamente alla promozione in Serie B o comunque alle zone nobili della classifica, facendo una gran bella partita giocando con due coglioni così, giocando da squadra matura. Il Forlì adesso è una squadra, è un'orchestra che suona tutta la stessa musica. Quando attaccano, attaccano tutti insieme, quando difendono, difendono tutti insieme. Corrono l'uno per l'altro, finalmente, finalmente, da un po' di tempo. Comunque Gadda è riuscito a plasmare questa squadra, ci ha voluto un po' di tempo. Non nego che io all'inizio, quando vedevo il Forlì, mi mettevo le mani nei capelli e mi dicevo, no, non ce la potremmo mai fare. E invece mi sbaglieva. Ha so content, ha so content che ha so sbagliare. Ancora non abbiamo fatto niente, per carità. Però se mi dicevano due mesi fa che il Forlì adesso è in lotta non solo per la salvezza, per i play-out, ma anche per la salvezza diretta, senza passare dai play-out, non ci avrei mai creduto. Quindi bravo Gadda, bravo Gadda, bravo anche chi ha saputo aspettare. E qui mi riferisco al presidente Fabri, la società che mi viene da pensare che nei momenti difficili di inizio stagione potessero anche aver avuto dei dubbi sull'allenatore. Magari quando perdi tutte le domeniche ci può anche stare, che ti viene il pensiero di dire, io cambio l'allenatore, ci provo, provo a dare una scossa. Loro non hanno fatto questa cappella, non sono caduti in tentazione, diciamo così, hanno ottenuto Gadda, che è stata la scelta migliore che potessero fare. E i risultati piano piano stanno arrivando. Cappellini ha fatto un gol strepitoso, sono contento per Cappellini, che all'inizio dell'anno io lo criticavo, perché obiettivamente, caro Cappellini, all'inizio dell'anno eri utile come la forchetta nel brodo, però bisogna anche dire che adesso, insieme ai tuoi compagni, Spinosa, Conson, stai diventando fondamentale, fondamentale, e i tuoi compagni che all'inizio mi piacevano di meno, adesso sono quelli che mi piacciono di più. Quindi, grande partita di Cappellini, Bardelloni che fa i colpi di tacco, Succi che ha esordito a un quarto d'ora e venti minuti della fine, applaudissimo anche dai suoi ex tifosi. Quindi, al Morgagni, una domenica con i Fiocchi, a sopropi content. Veniamo alle notte meno liete. La palla canestro for lì, a penso anche stasera. Dov'è la novità? La novità è la niente, perché purtroppo ormai ci siamo abituati. Però, però, in una partita dove io all'inizio ero convinto non di perdere, ma di straperdere, l'unica cosa buona è che abbiamo lottato fino alla fine. Ho seguito la partita su diretta basket, lì con i risultati lampeggianti, e insomma, già essere rimasti in partita, fino alla fine, in un campo difficile come quello di Treviso, è qualcosa di buono. Ovviamente non ci vengono punti in cascina, quindi non serve a niente. Fortunatamente ha perso anche Recanati, ha perso anche Chieti, Imola invece ha vinto. Credo che purtroppo ormai il nostro unico obiettivo sarà quello di non arrivare ultimi, per poi cercare di, insomma, di sgavagnarcela ai play-out. È arrivato questo Johnson dal mercato, che l'hanno già ufficializzato, mi dicono che se non è ufficiale sta per essere ufficiale questo amoroso. Dico la verità, non li conosco, spero che possano essere utili alla causa. Se ne va Infante, caro Infante, senza rancore, ad salute, e sta bene, non ti rimpiangerò. L'unica cosa buona che hai fatto, caro Infante, da quando sei fuori, è che gli sei andato a vedere i Tigers, almeno gli hai portato un po' di sfiga. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!